Sulla strada viaggiate sempre sicuri e protetti con Autocarruzzeria Stefano Calò. Centro convenzionato Eurocar Point con le principali assicurazioni. Info al numero verde 800 700 335. Euroglass Service Cristalli. Riparazione e sostituzione parabrezza. Così avrai un parabrezza sempre perfetto. Chiama al numero verde 800 124 324. Convenzionato Eurocar Point con le principali compagnie. Unica, Sara, Credì Agricoli Intesa San Paolo, Amissima, Grupa Ma Attilon, Europe Car, ALD, Car Werner, Zurich. Se subisci un incidente con la tua auto, vieni subito da noi. Porta con te il modello CAI con due firme. Provvederemo subito a darti la macchina sostitutiva. Gestiremo la pratica con la compagnia di assicurazione e provvederemo alla riparazione senza alcun costo da parte tua. Autocarruzzeria Stefano Calò si trova in via Armà con Trada Pallica a Melito Porto Salvo. Telefono 09 65 78 14 21 o 335 65 76 120. Sicuri e protetti.